un cordiale saluto gentili telespettatori che ci guardate dal friuli venezia giulia dal veneto orientale canal furlan la tua televisione da oggi senza bavaglio ai notizie vuoi saperne di più vuoi diventare proprio tu il protagonista contattaci al numero in sovraimpressione noi ci siamo e voi canal furlan la to television gruppo medie triveneto no essi e vuatris ore 4 di questa notte un forte e violento boato scosso il sonno dei residenti di case frazione del comune di manzano in provincia di udine in un primo momento si è pensato al passaggio di un aereo militare o allo scoppio di qualche capannone industriale alle prime luci dell'alba la soluzione del giallo si è trattato di un tentato furto operato da alcuni malviventi alla cassa continua del supermercato famila i banditi hanno sfondato una vetrina con un'auto utilitaria rubata qualche ora prima udine usata come ariete una volta all'interno hanno tentato di far saltare la cassa sul posto è stata trovata una bombola di acetilene ma il colpo non è andato a segno forse perché la banda è stata disturbata da qualcuno o da qualcosa i banditi se ne sono andati senza bottino lasciando dietro di loro solo danni indagini da parte dei militari della stazione carabinieri di manzano dopo i noti avvenimenti terroristici di parigi a livello nazionale vi è stato un innalzamento dell'attività di prevenzione e vigilanza su tutto il fenomeno riguardante l'estremismo islamico dopo alcune settimane di indagini ieri il blizz della polizia goriziana aveva postato video girati in luoghi italiani su facebook in cui parla in arabo e maneggia un kalashnikov questi video sono stati notati dalle forze dell'ordine che hanno analizzato il materiale pubblicato individuando nell'isontino la zona dove erano stati girati agenti della costura di gorizia e dell'antiterrorismo della digosi trieste coordinati dalla procura distrettuale di trieste e procura di gorizia hanno individuato l'autore b a le sue iniziali un cittadino di origine tunisina pregiudicato e a suo tempo ospite del cie di gradisca di sonzo in casa dell'uomo sposato con una cittadina italiana residente a farra di sonzo è stato ritrovato un mitra ma non era funzionante il protagonista della vicenda è stato denunciato per procurato allarme la questura di gorizia indaga per stabilire se l'uomo ha legami con il mondo dell'integralismo islamico nell'ambito della costante attività di controllo economico del territorio della provincia di zontina e della fascia confinaria i finanzieri delle compagnie della guardia di finanza di gorizia e di falcone hanno sottoposto a sequestro nelle ultime settimane 13 cuccioli di cui 8 cani e 5 gatti persiani ritrovati stipati in pessime condizioni all'interno di tre furgoni provenienti dalla romania e dall'ucraina nei tre distinti interventi gli animali sono stati ritrovati nascosti ed ingabbiati in trasportini artefatti di piccolissime dimensioni del tutto inadeguati ad ospitarli per viaggi di così lunga durata denutriti e in condizioni igieniche del tutto carenti in violazione di qualsiasi prescrizione e normativa di settore inoltre nessuno dei cuccioli rinvenuti era scortato da passaporto canino adeguato compilato né tantomeno da alcun certificato veterinario i conducenti dei mezzi di origine rumene ad ucraina sono stati denunciati alla procura della repubblica presso il tribunale di gorizia in materia di maltrattamento di animali fortunatamente a seguito di cure veterinari immediatamente apportate i cuccioli sono stati concentrati presso un centro di recupero faunistico locale dove hanno ricevuto l'adeguata assistenza per poi essere affidati alle famiglie assegnatarie i cuccioli pagati poche decine di euro se fossero stati introdotti nel mercato avevano consentito un illecito guadagno di circa 8 mila euro quali le vostre proposte come lega nord per la gestione della questione profughi che sta interessando vari comuni della nostra regione abbiamo visto le criticità nel comune di udine la gestione va vista a monte prima di fare entrare tutte queste persone tutti questi clandestini dobbiamo essere sicuri di poter dare un lavoro di poter dare una casa dignitosa dove poter vivere soprattutto anche l'assistenza sanitaria quindi io credo che sia sbagliato da parte del governo centrale fare entrare tutta questa gente senza avere un controllo di chi sta entrando e senza dargli senza potergli dare niente di propositivo in più di 500 pronti a partire il 28 febbraio per la manifestazione perché renzi a casa perché è giusto che vada a casa non è stato in primis non è stato eletto dal popolo quindi è stato messo lui a governare questo questo stato ed è giusto che chi ci governa venga eletto dei cittadini lei anche sindaco come vive questa questione dovendo magari rapportarsi alle prefetture che ruolo assumono come vi aiutano che direttive vi danno diciamo che le prefetture fanno richieste ai comuni se c'è la disponibilità di alloggi io devo essere sincero fortunatamente nel mio comune di cono di rosazzo non ho alberghi non ho strutture da poter dare da poter dare in gestione per questi per questi profughi che arrivano non sono un razzista perché io sono uno che voglio accogliere chi viene a casa mia però accoglierlo dignitosamente richiedenti asilo al civiform qual è a questo punto la situazione di Cividale. Noi negli anni abbiamo avuto proprio degli scarici di questi ragazzi minorenni che venivano trasportati con i furgoni dalla Romania e dai paesi dell'est venivano scaricati a Cividale proprio perché a Cividale trovandosi questa struttura venivano accolti in questo civifo e poi naturalmente mantenuti fino al compimento dei 18 anni. Il problema nostro che non riusciamo a capire con le forze dell'ordine che gestiscono la situazione diciamo senza tanti drammi però ci troviamo il problema che non riusciamo a capire quando compiono gli anni poi dove vanno questi ragazzi perché il 18esmo compleanno loro sono liberi e quindi emigrano per altri stati forse oppure in giro per l'Italia. Ci troviamo a San Giovanni a Natisone nei pressi della nuova rotonda che collega la strada regionale 56 alla Palmarina e da qualche settimana insomma è aperta questa nuova attività all'ortobar. Siamo venuti a trovare una delle titolari e soprattutto a scoprire che cosa c'è di buono perché il chilometro zero si può fare anche in Friuli. Esatto confermo tutto. Noi siamo partiti con questa nuova idea, abbiamo brevettato, depositato il nostro marchio, quello che proponiamo sono prodotti di qualità, sicuramente troviamo anche la convenienza e in più lavoriamo molto con appunto il discorso bar, una miscela nostra e cerchiamo di studiare al dettaglio tutto quello che poi rivendiamo. Noi cerchiamo di ragionare sempre come consumatore finale e non come diciamo così titolari. Fare impresa oggi non è semplice visti i tempi? Sì è vero, però devo dire che abbiamo un ottimo riscontro, il pubblico risponde bene, speriamo insomma vada avanti così, ancora è presto ovviamente per decidere e poter decifrare bene quello anche che è il nostro messaggio. Possiamo dire che siete aperti tutti i giorni? Tutti i giorni, tranne la domenica pomeriggio dove riposiamo un po' anche noi. Prendete piatto come si dice per ripartire la settimana, ma anche se non si dovrebbe dire perché venire da voi? Perché siamo belle, perché siamo simpatiche, no questo lo lasciamo agli altri. Perché qui ci sono i prodotti di qualità? Esatto, proponiamo prodotti unici dalla mozzarella di bufala campana ai tonni particolari, al caffè che trovate solo da noi questo tipo di caffè e poi alla frutta e alla verdura fresca che arriva ogni giorno. non resta che dire Orto Barsa, Giovanna Natigione, strada regionale 56. Esatto, confermo. Citofonare? Prego. Citofonare? No no, bussare bussare. No no, bussare bussare. Cosa Senate? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Gemonese 20, Torre Pordenone 15 chiude l'oltre a 6. Il campionato come detto si prende una pausa, si torna a giocare l'8 marzo. Intanto mercoledì a Corno di Rosazzo gara decisiva per il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia tra la Virtus e il Campo d'Arsego. Ai friulani servono solo i tre punti per continuare l'avventura. Fischio di inizio, ore 15. Questo gruppo mette a disposizione sulle cinque reti televisive spazi per la realizzazione di trasmissioni commerciali, politiche culturali, sportive ed altro ancora autogestite. Gli interessati potranno telefonare in orario d'ufficio al numero in sovraimpressione. Un'occasione da non perdere. L'informazione per oggi sul canale Furlan termina qui. Come sempre, grazie per l'ascolto. Alla prossima.